no 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 confinellino live dal spogliatoio del parrano fatti gol bomber oggi due ottimo dichiarate fatti gol oggi lo spogliatoio di sky è sky è prima partita è prima partita sky oh dobbiamo fare l'articolo l'articolo? no io fai video l'articolo basta neanche scrive questo è il premartire a Sky si giochi oggi? no nuovo acquisto di gennaio questo gennaio mi rimane a noi a però è in prestito di un mesetto con chi giochiamo oggi? guarda il documento il documento l'ho dato io? si si lo vediamo? si me lo vediamo no meno che ce ne ho allora non giochiamo oggi? non mangio con il 4-4-2 classico chissà quest'altro che è l'arca Masciato vabbè oh morcio ciao ecco ecco il presidente un po' contro lui il presidente forza ragazzi eh si forza che noi vi sosteniamo dalla grippa eh vai come sempre ciao regà ottimo oh Luca stasera? si 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 ci vediamo dopo 8 8 ciao ciao ciao